meritato abbraccio in pratica soltanto Zeman è rimasto imperturbabile nell'area tecnica per il resto è andato a prendersi gli abbracci che stanno di liberazione per lui Mattia Destro e De Rossi quando si è avvicinato De Marco per evitare che si perdesse troppo tempo ha spiegato al quarto uomo che in questo abbraccio c'era molto più che il festeggiamento di un uomo